Ciao e benvenuto da Matteo Bricchi. In questo tutorial vedremo come ottenere un effetto simile a quello delle locandine del film Sin City, quindi forti contrasti e piccoli dettagli colorati. Se vuoi imparare il fotoritocco in modo facile e divertente dai un occhio al mio sito matteobricchi.com dove troverai il mio videocorso completo su Photoshop, disponibile in DVD, in versione standard e versione speciale ed ora anche come download digitale. Bene, nel tutorial di oggi andremo a vedere come trasformare questa fotografia di una cattiva ragazza in questo effetto finale, dove andremo a simulare l'estetica utilizzata nel film Sin City. Avremo un po' di operazioni da compiere per ottenere l'effetto finale. Per prima cosa questa foto ha una fortissima dominante blu, quindi andremo a utilizzare un livello di regolazione e bilanciamento colore per eliminare questa luce blu astra. Lo facciamo semplicemente andando ad aggiungere del rosso, un valore intorno al 25-28 può andare bene, e a togliere del blu, quindi automaticamente aggiungiamo giallo. Un valore intorno al meno 25-28 è idoneo. Come vedete, grazie a questo livello abbiamo totalmente eliminato la dominante blu astra. Una caratteristica del film Sin City è quella di avere delle immagini quasi completamente desaturate con dei particolari che invece risultano a colori. Aggiungiamo quindi un livello tonalità e saturazione e abbassiamo la saturazione del 50%. Andremo ora a colorare quei particolari che ci interessa far spiccare. Iniziamo ad esempio dalle unghie, o meglio dall'unghia, perché in questa particolare fotografia se ne vede solo una. Per zoomare velocemente al 100% si può utilizzare doppio clic sullo strumento lente o, come ho fatto io, il comando rapido su Mac Alt più Command più il tasto 0, o su Windows Alt più Control più il tasto 0. Il metodo più facile e veloce per dare colore ad un oggetto che non ne ha è di nuovo un livello di regolazione tonalità e saturazione, questa volta con la spunta sul colora. Per un bel rosso intenso andiamo ad utilizzare una tonalità a 0, quindi rosso, saturazione al massimo e luminosità meno 30. Ora abbiamo chiaramente colorato tutta la fotografia, quando invece volevamo colorare solo l'unghia, nessun problema, abbiamo una maschera completamente bianca, con il comando rapido Command o Control-I andiamo ad invertirla, prendiamo lo strumento pennello, tasto rapido B, clic destro per regolarne dimensione e durezza, in questo caso scegliamo una dimensione molto piccola, intorno ai 10 pixel e una durezza intermedia, diciamo 50%. Confermiamo con l'invio e manualmente andiamo ad applicare il colore. Se dovessimo sbavare leggermente, con il tasto X invertiamo i colori di primo e secondo piano, andiamo quindi ora a colorare con il nero ed eliminiamo le sbavature. In questi casi conviene sempre fare doppio clic sulla maschera e dare una leggerissima sfumatura. Il dettaglio è talmente piccolo che mezzo pixel è sufficiente per amalgamare meglio il colore con il resto dell'immagine. Chiudiamo e proseguiamo con questa tecnica. Aggiungiamo quindi un nuovo livello tonalità saturazione, ci spostiamo sugli occhi della ragazza, possiamo addirittura zoomare al 200% per essere ancora più precisi. Di nuovo attiviamo il colore con una tonalità verde intorno al 120, una saturazione di 80 e la luminosità la lasciamo a 0. Stessa tecnica di prima, Command o Control-I per invertire la maschera, totalmente nera, nascondiamo l'effetto del livello, tasto B per il pennello che in questo caso era già selezionato. Per questa situazione abbiamo bisogno di un pennello ancora più piccolo, invio per confermare, colore bianco di primo piano, quindi se avessimo il nero con la X li scambiamo e andiamo a colorare la parte di occhio che vogliamo rendere verde. Anche in questo caso se sbavassimo un pochino, nessun problema, tasto X per ripassare al nero e andiamo a correggere la sbavatura. In questo caso chiaramente è molto molto utile lavorare con una tavoletta grafica anziché con un mouse che rende sicuramente le cose più difficili. Ok. Stesso discorso di prima, doppio clic sulla maschera, sfuma, anche in questo caso una sfumatura molto piccola è sufficiente. Sempre guardando gli occhi mi accorgo che il bianco non è proprio chiaro, chiaro e luminoso. Per dare più importanza allo sguardo aggiungiamo un livello di regolazione curve, schiariamo leggermente, stessa tecnica utilizzata finora, Command o Control I, invertiamo la maschera, pennello piccolino, colore bianco, andiamo a schiarire queste ombre o queste macchie scure che ci sono negli occhi. In questo modo rendiamo lo sguardo molto più presente ed intenso. Se vogliamo vedere la maschera, alt clic su di essa per vedere cosa abbiamo combinato. Già che siamo in questa visualizzazione, doppio clic sulla maschera e vediamo l'effetto della sfumatura. Andiamo ad amalgamare meglio le spennellate che abbiamo effettuato manualmente. Chiudo le proprietà, alt clic sulla maschera di nuovo per rivedere l'intera immagine. Ultimo effetto di colore, di nuovo tonalità saturazione, colora, 0, quindi di nuovo un rosso, 90 come saturazione e meno 40 come luminosità per avere un colore più intenso, più scuro. Chiudiamo le proprietà, Command o Control I, pennello, in questo caso dobbiamo ingrandirlo un pochino e vi dirò un comando rapido che non tutti conoscono. Su Mac, Control più Alt, clicchiamo e trasciniamo a destra e sinistra per cambiare le dimensioni. Su Windows invece, solo il tasto Alt e clic destro. Clicchiamo e trasciniamo per cambiare le dimensioni. Molto comodo quando si lavora in questo modo. Anche in questa volta, manualmente andiamo a colorare le labbra. In questo caso, abbasso un pochino la durezza del pennello che ha dei bordi troppo netti e continuo a disegnare. Per questo tipo di immagini, dove dobbiamo colorare piccoli dettagli e il contrasto è molto basso, secondo me il modo migliore è questo, di creare una maschera manualmente. Nessuno strumento di selezione automatico sarebbe così preciso da selezionare le labbra perfettamente. Quindi, ripeto, avendo una tavoletta grafica, questo risulta ancora più facile, con il mouse ci vuole magari un pochino più di precisione. Ed ecco il risultato. Come sempre, una piccola sfumatura, in questo caso darei anche un pixel, per meglio amalgamare l'effetto. Bene, doppio clic sulla mano per vedere l'immagine nel suo insieme. Bene, a colore siamo a posto, concentriamoci ora sui contrasti e sulle luci. Un modo molto semplice di schiarire parte della foto è sempre quello di utilizzare delle curve, dove andiamo a schiarire, e le regoliamo poi con la maschera. La invertiamo, CMD-Ctrl-I, zoom un pochino, pennello, ingrandisco un po' il pennello. In questo caso, vorrei andare a schiarire in generale un po' il viso della ragazza, quindi lentamente do delle spennellate. Un altro grandissimo vantaggio dell'utilizzo di una tavoletta grafica è il poter utilizzare la sensibilità alla pressione. Se vado a vedere la maschera, come vedete non sto disegnando completamente delle pennellate bianche, ma dei grigi, che vanno ad applicare l'effetto di luce in modo graduale. Purtroppo questo effetto col mouse non è ottenibile, o volendo potremmo abbassare il flusso, quindi ogni cliccata e trascinata di mouse non darà il 100%, ma il 70-50%, quello che impostiamo qua. Bene, continuo, schiarisco un po' le gambe, e diciamo che andiamo a dare luce a quelle parti che già sono chiare per incrementare in questo modo il contrasto. Ok. Chiaramente avendo tempo si può essere molto più pignoli e precisi. Adesso illustro la tecnica. Alt-click, queste sono le zone, ecco, mi accorgo che magari sono da migliorare un pochino, che ho schiarito anche le mani. ecco fatto. Solita tecnica, sfumatura, qua stiamo sfumando zone più grandi, quindi un paio di pixel possono andare bene. Per schiarire lo sfondo potremo utilizzare le stesse curve, ma è meglio sempre tenere le cose separate. Quindi con doppio clic potremmo chiamare questa maschera schiarire ragazza, aggiungiamo un altro livello curve e lo chiamiamo schiarire sfondo. Stessa tecnica, alziamo la curva, in questo caso la possiamo alzare parecchio, CMD o CTRL-I per invertire la maschera e di nuovo a mano, in questo caso con un pennello molto morbido e nonostante ho una tavoletta grafica a basso il flusso per avere spennellate più leggere, andiamo a seguire le striature di luce provenienti dalla finestra. Adesso chiaramente risulta tutto molto netto, ma andremo poi a sfumarlo in questo caso in maniera maggiore. Quindi possiamo dare delle striate così, seguire un po' la luce, non dobbiamo ottenere un effetto perfetto, non dobbiamo stare a seguire perfettamente ogni linea, l'importante è dare dei colpi di luce in questo modo. Per schiarire la finestra possiamo usare un pennello o possiamo velocemente con lo strumento di selezione rettangolare selezionare la finestra diciamo fino a questo punto poi selezione trasforma selezione e tenendo premuto il tasto command su Mac clicchiamo e trasciniamo un triangolino per deformare la selezione in questo modo e farla combaciare alla finestra. Confermiamo con invio il nostro colore di primo piano deve essere bianco maschera selezionata con il tasto rapido Alt più Backspace il tasto che usiamo per cancellare delle lettere ad esempio quando scriviamo su Word quindi Alt più Backspace riempiamo questa selezione con il colore di primo piano bianco nella maschera command o control D per deselezionare abbiamo schiarito la finestra in questo caso andiamo a vedere la maschera doppio clic serve una sfumatura abbastanza intensa direi intorno ai 30 pixel di nuovo Alt clic per uscire possiamo attivare o disattivare l'occhio per vedere l'effetto bene iniziamo ad avere un po' di livelli che in questo caso dovendo abbassare la risoluzione del monitor per registrare il video non ci stanno se facciamo doppio clic per esempio sull'istogramma che in questo momento non ci serve liberiamo più spazio per il pannello livelli a questo punto abbiamo gestito i colori le luci non ci resta che dare un pochino di effetto di tridimensionalità e lo facciamo utilizzando la maschera di contrasto con un effetto particolare utilizzando valori particolari per utilizzare la maschera di contrasto però abbiamo bisogno di un nuovo livello che contenga tutte le regolazioni finora effettuate un nuovo livello di pixel non esiste un livello di regolazione maschera di contrasto anche se con tecniche avanzate potremmo inventarci qualcosa ma in questo momento cerchiamo di mantenere il progetto il più semplice possibile quindi per avere un nuovo livello di pixel che contiene tutte le modifiche effettuate finora utilizziamo il difficilissimo comando rapido da tastiera shift più alt più command su mac o control su windows quindi tutti e tre i tasti di modifica più il tasto E di empoli su questo nuovo livello possiamo quindi applicare un filtro menu filtro nitidezza maschera di contrasto in questo caso vogliamo dare un effetto di tridimensionalità alla foto lo otteniamo aumentando il raggio intorno ai 250 pixel e regolando poi il fattore ad una percentuale bassa intorno al 12 o 13% vediamo un'anteprima andiamo ad accentuare i vari passaggi tra ombre e luci confermiamo con l'ok andiamo ad aggiungere una leggera bordatura alla foto con il comando immagine dimensione quadro assicuriamoci di avere relativo attivato pixel come valore e aggiungiamo 50 pixel sia nella larghezza che nell'altezza come colore bianco diamo l'ok e abbiamo il bordino l'effetto è finito non c'era assaltro che se vogliamo aggiungere il logo esco dalla modalità tutto schermo con il tasto F due volte ho scaricato un semplicissimo logo di Sin City in formato JPEG da internet clicco e lo trascino per inserirlo nella foto posso automaticamente riposizionarlo mi trovo già nella modalità trasformazione libera e regolarne le dimensioni confermo con ok con il tasto F e torno a tutto schermo abbiamo il problema del bordo bianco anziché diventare pazzi e creare delle selezioni e successivamente una maschera per nascondere il bianco abbiamo una tecnica molto a molto più facile facendo doppio clic sul livello apriamo lo stile di livello una particolare opzione che spiego anche in un altro tutorial sul mio canale youtube dove parlo della sostituzione di un cielo bruciato in una fotografia ci permette facilmente di eliminare le parti bianche o più chiare da un livello abbassando questo triangolino fino a 110 circa eliminiamo completamente il bianco abbiamo ancora dei bordi un po' troppo seghettati tasto alt per separare due triangolini e dare una leggera sfumatura che in questo caso porterà intorno al 150 praticamente di questo livello quindi il livello Sin City vediamo tutto ciò che va dal nero a un grigio intermedio con una sfumatura tutto ciò che è più chiaro di 150 a livello di luminosità diventa trasparente e vediamo perciò i livelli sottostanti confermo con l'ok potremmo essere soddisfatti se non lo siamo perché abbiamo ancora un pochino di sbavatura bianca intorno al livello possiamo duplicare il logo con il tasto Command o CTRL J ed impostare il metodo di fusione a moltiplica in questo modo moltiplichiamo andiamo a sommare i livelli di luminosità dei due livelli avendo un rosso molto più intenso e andando a mascherare tutte quelle piccole sbavature bianche doppio clic sullo strumento mano per adattare allo schermo tasto F per andare a tutto schermo e valutare il risultato finale con il risultato finale Grazie.